Benvenuti a questa edizione diretta dello ISTG. Oggi uno speciale dedicato interamente ad uno dei massimi esperti a livello mondiale, la lotta e la ricerca contro le leucemie, il professor Franco Mandelli, che è presidente dell'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie. Buongiorno professore e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Professore, lei innanzitutto un grazie da parte di tutti noi per la ricerca che lei è sempre portata avanti contro i tumori del sangue e è riuscita a ottenere dei successi mondiali. Tutti parlano di lei, professore, come colui che ha salvato e continua a salvare la vita per una malattia così importante qual è la leucemia, linfomi e mielomi. Ecco, allora professore, lei ha dedicato la sua vita a vivere in corsia con un unico grande obiettivo, sconfiggere i tumori del sangue. Ecco, come mai, professore, hai scelto di intraprendere questa strada? È una domanda che mi sono fatto tante volte anch'io, per caso forse, perché ho scelto medicina perché speravo di trovare una strada. Io ero figlio di ingegnere, non ho fatto ingegnere e sono andato a lavorare prima a Milano e poi dopo la laurea a Parma. A Parma il mio professore, che si chiamava professor Bufano, un grande maestro, si occupava sia di malattie del sangue, sia di malattie endocrine, cioè tiroide, diabete, eccetera. Io ho cominciato ad avere degli incontri con dei malati, affetti da malattie del sangue. Io ricordo ancora una giovane ragazza con un linfoma, ma parlo del 1957-58, che io curai, allora avevamo pochi farmaci, ebbe un miglioramento eccezionale, tornò a casa, sembrava apparentemente guarita, però dopo due mesi tornò da noi con un'esplosione della malattia. Era una bella ragazza, io ero giovane, forse mi ero anche un po' innamorato di lei. Tornò da noi e la vidi morire fra dolori incredibili, senza poterle fare niente. Le possibilità erano due. O dicevo le malattie del sangue non si possono curare, oppure, è successa la seconda cosa, perché non provarci, perché non lottare, perché non cercare di cominciare a sconfiggere. Così mi sono dedicato all'ematologia, prima alle malattie emorragiche e trombotiche, poi soprattutto alle leucemie. Professore, negli anni 70 lei ha passato un grande periodo a Parigi, accanto di un grande ematologo, il professor Jean Bernard. Ecco, lo considera il suo maestro? Beh, insieme al professor Bufano di cui ho parlato prima. Il professor Bernard per me è stato il più grande ematologo del mondo. In America seguivano alcune sue intuizioni spettacolari. Io stetti a Parigi, forse avevo anche la possibilità di restare là, però amavo perdutamente l'Italia e quindi tornai in Italia sperando di rifare in Italia quello che avevo visto che era fondamentale a Parigi. Per esempio, aprì in Italia il primo dei hospital. In Italia non si sapeva neanche cos'erano, cioè venivano curati, malati di giorno e la sera tornavano a casa. L'avevo visto a Parigi, così come a Parigi, tornando vidi i primi trapianti di midollo che cominciai a fare anche a Roma. Lei è stato per tanti anni, anche lo vogliamo ricordare, professore di ematologia all'Università della Sabienza di Roma. Ecco, perciò insomma tanti casi ha visto. Poi l'AIL, questa grande associazione che ha compiuto da poco 40 anni. Ecco, qual è il ruolo dell'AIL, professore per l'ematologia italiana? Ma io devo dire che se non ci fosse l'AIL, forse l'ematologia italiana non sarebbe arrivata ai livelli a cui è attualmente. Che sono livelli incredibili. In tutta Italia gli ematologi italiani, in tutto il mondo scusi, gli ematologi italiani sono stimati enormemente, ma grazie anche all'AIL che ha finanziato i centri di trattamento, dando borse di studio, comprando apparecchi, aiutando i centri a crescere. E tutta l'Italia è piena di centri di ematologia, sono ormai 82 le sezioni provinciali dell'AIL e queste sezioni aiutano i centri di ematologia. E sono diventati veramente eccezionali. Ma senza i volontari non ci sarebbe l'AIL. Ecco, diciamo che lei, professore, è un catalizzatore di attenzione da parte di tutti, perché le campagne che anche noi come gli STV danni seguiamo, Natale, Pasqua, a favore dell'AIL, riscuotono sempre un enorme successo, perché c'è da parte della gente una grande sensibilità verso questa patologia, verso quello che lei rappresenta e verso le cure che ha portato e continua a portare per i malati. Non solo io, eh. Certo, lei come fulcro... Perché in Italia ci sono altri grandi ematologi. Un mio carissimo amico di Bologna, il professor Ottura, insieme a me, ha dato questo impulso alle ematologie in Italia. Ecco, che cosa manca ancora per curare, per sconfiggere definitivamente questa patologia, professore? Ma io credo che dobbiamo intanto tenere conto dei progressi che sono stati realizzati. Quando ho cominciato io a curare le leucemie, anche le leucemie del bambino non avevano speranza. Quando venivano mamma e papà di un bambino dovevo dire, lei crede, crede in Dio, preghi, perché io purtroppo non posso aiutarla. Oggi quei bambini guariscono più dell'80% dei casi. E così i progressi sono stati fatti incredibili nei linfomi, nel mieloma anche, che ha avuto negli ultimi anni cure incredibili che hanno cambiato la proniosi in questa malattia. Aveva due anni di vita media, oggi ne ha più di 10, 15. Forse si arriva anche a curarlo e a guarirlo il mieloma. Ma la cosa incredibile è che con la ricerca i progressi continuano. Io dico sempre che ci sono delle malattie in cui magari per anni non si vede niente di nuovo. Poi improvvisamente si scatena un insieme di novità incredibili, di nuovi farmaci, di nuove terapie, magari anche complesse, anche difficili da attuare, che cambiano la prognosi e fanno diventare curabili e addirittura guaribili malattie che prima non erano curabili. Ecco, in questa sua ultima pubblicazione, professor Mandelli, curare e prendersi cura, dove come sempre il professore devolverà gli incassi all'associazione, all'AIL, ecco, lei parla del malato, mettere in primo piano il malato, prendersi cura della persona, più che curarlo fisicamente. Ecco, questa attenzione all'attenzione verso il malato. Io credo sia fondamentale. Questo l'ho capito quando ho cominciato ad incontrare i primi malati. Il malato vuole un'attenzione particolare, vuole che il medico parli con lui, che gli stia vicino, che ascolti le sue domande, che chiarisca i suoi dubbi, che quindi lo prenda in cura. Cioè, non solo farmaci, non solo interventi chirurgici, non solo radioterapia, ma questa attenzione particolare ai bisogni del malato e dei suoi familiari. Perché io credo che il malato ha bisogno magari di una buona parola, di una carezza, di uno stimolo a lottare. Io dico sempre che quando vede un malato depresso, la prima cosa che dico deve reagire alla depressione. Deve non perdere la speranza, che solo con la speranza può lottare contro la malattia. Ecco, in questa sua ultima bellissima pubblicazione lei professore dà anche nell'ultima parte dei consigli ai giovani medici che si affacciano a questo tipo di specialità. E la prima cosa che lei consiglia è di avere nervi saldi, è così professore? Sì, di avere i nervi saldi e di avere tempo a disposizione per i malati. Il medico che vuole fare il medico con la M maiuscola deve dedicarsi al malato. Io quando ero più giovane, ovviamente adesso non ce la farei più, uscivo di sera e di notte per andare a visitare i malati. E tante volte ho dato un aiuto concreto, ma soprattutto perché quando dicono che il medico non ha tempo di parlare con il malato, ma il malato non vuole ore. Il malato magari ha bisogno di 5 minuti, ma in cui, durante i quali, il medico si dedica solo a lui. Non viene distratto da niente e sta concentrato sul malato. Quante volte ho visto malati che chiedevano di poter sapere meglio le cose a cui andava incontro, che cosa doveva affrontare, quali erano i dubbi che doveva risolvere. E risolvendo i dubbi del malato, il medico riesce a curarlo meglio. Non c'è alcun dubbio. Ecco, si parla spesso, professore, soprattutto in questi ultimi tempi, di quale deve essere il rapporto fra medicina e giornalismo e informazione sanitaria. Ecco, lei ritiene che questa sinergia possa contribuire a favore del malato oppure no? Assolutamente sì. Io sono convinto che anche quando il giornalista parla del malato, il malato è contento. E' contento perché si sente al centro dell'attenzione. Ci sono stati anni e anni fa in cui non si parlava mai. Forse in qualche trasmissione se ne parla troppo e male. Ma se venissero veramente valutati tutti i vantaggi che il malato ha di sentire parlare della propria malattia, allora ci si renderebbe conto di quanto può essere utile un intervento in televisione, alla radio. sul giornale stampato. Certo, perché la condivisione comunque aiuta anche a sentirsi meno soli, a patto che non venga spettacolarizzata, come purtroppo si vede in alcuni talk di pomeriggio o di mattina nei grandi network dove viene affidato questo lavoro a non professionisti. Questa è una battaglia, professore, che facciamo da anni per dare il lavoro a chi deve saperlo fare. Sì, non bisogna assolutamente trascurare questo aspetto che è fondamentale. Quindi bisogna parlare, ma parlare sapendo che cosa si dice e che dietro a quello che diciamo c'è sempre magari un malato o un parente che ascolta. Perché? Perché i sani non ascoltano, sono i pazienti che hanno dei problemi e questo parlarne bene aiuta a risolvere. Si parla tanto spesso di mala sanità, ma la mala sanità rappresenta l'1% della buona sanità e di buona sanità non si parla mai perché non fa buona notizia. Il Ministro della Salute Lorenzini è recentemente stato negli Stati Uniti e ha ricevuto i complimenti e soprattutto si sono chiesti agli americani come mai la nostra sanità costi così poco e dia così tanto rispetto alle loro assicurazioni. Io sono un grande estimatore del Ministro Lorenzini e mi ha scritto un biglietto bellissimo quando non ha potuto venire alla presentazione del mio libro. Lei è una donna vera, una donna piena di entusiasmo che ha piacere di fare qualcosa per i malati, ci crede in quello che fa e quindi io sono anch'io convinto che conoscendo i problemi dei malati, sapendo che cosa vuol dire aiutarli, anche la sanità non deve avere dei tagli indiscriminati. Io nel libro ne parlo, la spending review deve essere fatta con molto criterio e ci sono possibilità di risparmiare senza far perdere le cure ai malati, cosa essenziale. Molto fa e ha fatto, l'abbiamo detto professore, l'Aile anche per la ricerca perché la ricerca andando avanti, avendo la sensibilità anche delle case farmaceutiche, si possono sempre raggiungere nuovi traguardi per curare i pazienti. In questo l'Aile è stata molto brava a fare leva anche sulle grandi multinazionali, professore. Io credo che purtroppo per la ricerca non ci sono tanti finanziamenti in Italia, ecco, Aile aiuta la ricerca, finanzia un gruppo che è molto noto nel mondo, che si chiama Gmema, che è il gruppo che coordina i protocolli che vengono utilizzati dall'estremo nord all'estremo sud dell'Italia, protocolli omogenei che mettono in atto le cure più valide esistenti nel mondo, che fanno sì che si possa fare una diagnosi precoce, molto sicura, che consente quindi di curare al meglio i malati. Bene, allora ringraziamo il professor Mandelli per questa intervista che ha concesso al nostro telegiornale, vi ricordiamo in chiusura, ecco, se volete dare un aiuto alla ricerca, curare e prendersi cura, dove potrete avere la soluzione a molti dubbi che riguardano questa patologia, ma soprattutto al percorso dell'Aile, è una storia di umanità, che è quella che contraddistingue da sempre il nostro professor Mandelli. Grazie ancora professore per essere stato con noi. Ancora un'osservazione, i nostri volontari, non bisogna dimenticare che sono in grandissima prevalenza donne, e fanno un lavoro enorme, senza perdere un colpo, senza mancare mai, con un'attenzione per il malato incredibile. Bene, grazie allora al professor Franco Mandelli, ricordiamo presidente dell'Aile, si chiude qui questa nostra intervista in diretta, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.